credo ce ne siano parecchi ma ci siano anche molto opportunità di collaborazione con altri soggetti già avviate in altre attività che potrebbero essere un buon momento per costruire qualcosa. Adesso se volevo passare la parola a Cristian perché lui si occupa invece del sistema informativo ambientale dell'NRC EIS e quindi diciamo è un altro di questi trasversali e poi passerei appunto a quelli più tematici. Grazie Cristian. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Questa presentazione è stata diciamo preparata da Carlo che è il punto di contatto principale per quanto riguarda il gruppo degli NRC EIS e sono... Non si vede? No, si vede così, vabbè, comunque guarda la storia, non ci riesci, non ci riesci. Dove sta la modalità di lettura? Ecco. Meglio? Sì, meglio. Dunque il quadro di riferimento per quanto riguarda gli NRC EIS è questo qui. NRC EIS è un ruolo che è trasversale un po' a tutte le attività tematiche perché fa un po' da supporto sia in termini di infrastrutture ma soprattutto in termini di standard tecnologici e di supporto proprio alla realizzazione dei sistemi informativi che poi vengono diciamo progettati dagli esperti tematici, quindi dagli NRC tematici. Tra le attività principali ci sono l'implementazione di SPIRE, l'applicazione dei principi SEIS, diciamo, la realizzazione di banche dati rispondenti ai nuovi standard tecnologici e nuovi standard semantici realizzati nell'ambito di una serie di progetti chiamati SENSE. In realtà Carlo qui voleva mettere SEIS, non SENSE, però diciamo SENSE anche è una delle tecnologie che come NRC EIS siamo chiamati di implementare. Noi qui nel gruppo degli NRC EIS abbiamo Elio Giulianelli che si occupa proprio della costruzione dei link ad open data a livello ISPRA e quindi abbiamo un'expertise importante da portare come contributo in questi gruppi. Forniamo anche il supporto per quanto riguarda il SOE, anche da questo punto di vista è un supporto più che altro di tipo tecnico informatico. Una delle esperienze di supporto del SOE è stato proprio il primo progetto SENSE, che è dei tre che sono tuttora in esistenza, è stato l'unico che veramente ha portato dei risultati. Abbiamo cercato di realizzare un sistema automatico per inviare dei contributi per quanto riguarda la parte C del SOE all'agenzia europea, scambiando i dati utilizzando una descrizione semantica di questi ultimi. Sono stati individuati una serie di indicatori, diciamo, poi questo progetto SENSE, secondo è andato, è naufragato perché è cambiato più volte il capo progetto, il terzo non ci hanno fatto sapere più niente, ma questo è secondo me una delle criticità di cui vi racconterò, che comunque vi anticipo, che c'è stato negli anni un coinvolgimento sempre minore dell'NRC EIS per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione dei sistemi informativi tematici. Ho visto che negli ultimi anni, per esempio, in una delle revisioni che l'agenzia europea ha fatto degli NRC, sono stati costituiti proprio degli NRC esperti sui sistemi informativi e sui dati in ambito tematico, mi riferisco per esempio ad alcuni sulla parte biodiversità, dove, e questo è un po' l'effetto che crea, diciamo, uno scollamento tra l'NRC EIS e l'esperto tematico, quindi ci siamo negli anni ridotti ad essere esperti solamente in SPIRE, che era come se SPIRE fosse, diciamo, rappresentasse tutto il mondo dei sistemi informativi, ma apprendo oggi dalla presentazione di Giuseppina, che fortunatamente l'agenzia europea si sta finalmente ricredendo su questa cosa e quindi sta cercando di dare una visione più matriciale, più trasversale, anche alla parte dell'NRC EIS, mettendo in evidenza che non c'è solo INSPIRE. Per quanto riguarda il programma, la strategia dell'agenzia europea, i contributi principali vanno sulla parte del sviluppo tecnico dei sistemi, che è l'area 3.2, e sulla parte di gestione dei flussi dati, che è la parte 3.3. Il supporto poi si esplicita in generale in questa rappresentazione grafica che Carlo ha cercato di fare, dicendo che in qualche modo attraverso l'applicazione di SPIRE e la costruzione, l'applicazione anche dei principi reportnet 2.0, 3.0, quelli che saranno, cerchiamo di dare supporto alla costruzione di una catena del dato che vada dal monitoraggio fino alla diffusione al pubblico, secondo i principi SEIS, che è quello che poi facciamo anche a livello nazionale e a livello UNEP. E non è un caso, mi viene da dire che i tre NRC EIS che abbiamo oggi sono tutti e tre del Digistina e tutti e tre partecipano sia all'implementazione del sistema informativo nazionale e ambientale che alle attività di Inforac, quindi alla realizzazione di un sistema informativo per il Mediterraneo. E di questo, ed è una delle sinergie e delle opportunità che abbiamo, ci facciamo anche veicoli delle migliori pratiche a livello nazionale e a livello Mediterraneo prese a modello dall'Agenzia Europea. Queste, brevemente, sono le politiche supportate, ma già più o meno ve le ho accennate tutte. Per quanto riguarda OpenData, io direi che non solo OpenData, ma anche LinkedIn OpenData, come c'era nella prima slide. Sicuramente teniamo d'occhio i servizi Copernicus, sebbene Copernicus sia un mondo tuttora abbastanza poco chiaro per quanto riguarda gli effettivi servizi utilizzabili. In qualsiasi caso, diciamo, nelle nostre implementazioni teniamo sempre conto della possibilità di garantire il collegamento con i servizi Copernicus. Gli obblighi diretti di reporting, diciamo, a livello di flussi dati, non ci sono flussi dati, ovviamente, di reporting che dobbiamo fare. C'è questo reporting sul monitoraggio dell'implementazione della direttiva ESPIRE che si fa ogni anno il 15 maggio. Ci chiedono una serie di contributi per quanto riguarda il supporto allo sviluppo di tool e di sistemi informativi. In questo ambito, noi abbiamo, per esempio, preso proprio a modello il tool Repornet dell'agenzia europea e, proprio per quanto riguarda le sinergie applicate, l'uso delle best practice, abbiamo ripreso questo sistema e lo stiamo riproponendo, diciamo, modificato, aggiornato e con le dovute modifiche a livello di Mediterraneo. Quindi un modello di sistema distribuito a rete ripreso dall'agenzia europea riadattato sul modello Mediterraneo. Quindi questo è un esempio dell'utilità, della sinergia, del fatto che, diciamo, questo team NRC ACE sia coinvolto anche su attività che non sono strettamente legate all'agenzia europea, ma sulle quali l'agenzia europea spesso ci chiama a coinvolgimento. Tutti i progetti in ambito SEIS, per esempio, ci coinvolgono direttamente. Per quanto riguarda le opportunità, ecco, sono, diciamo, principalmente quelle che vi ho già accennato, cioè di poter prendere delle esperienze tecnologiche fatte a livello europeo e riportarle in contesto nazionale e mediterraneo. Quello che abbiamo fatto anche è stato l'inverso, diciamo, prendere per esempio a modello il sistema EUNIS dell'agenzia europea per l'ambiente per quanto riguarda la biodiversità, applicarlo ad un caso nazionale che è il network nazionale della biodiversità che gestiamo noi per conto del ministero dell'ambiente e però andare un passo avanti, ampliarlo ulteriormente in termini di infrastruttura tecnologica. EUNIS, diciamo, è una base dati sostanzialmente alfanumerica, noi, diciamo, siamo partiti da quel modello e l'abbiamo fatto diventare un modello che ha creato una base dati non solo alfanumerica ma anche una geodatabese associata. Quindi, diciamo, potremmo a questo punto noi riproporre questa esperienza all'agenzia europea, insomma, riportare quello che abbiamo preso arricchito del nostro contributo. Le criticità principali sono lo scarso coinvolgimento che c'è stato per quanto riguarda la parte dei sistemi informativi se non fosse altro per i contributi in termini Inspire. Diciamo, c'è stato un dominio totale di Inspire a livello NRCA EIS adesso sembra che la tendenza dell'agenzia europea sia finalmente di accorgersi che esiste altro e quindi spero bene di tornare ad essere coinvolto attivamente perché oggettivamente NRCA EIS in questi anni non mi ha chiesto contributi particolari proprio per questo motivo visto che non mi occupo in maniera specifica di Inspire. E un'altra criticità diciamo che ovvia insomma comunque la mancanza di interconnessione interna con la parte tematica degli NRC che porta in qualche modo alla realizzazione di banche dati che rispondono sia alle direttive di riferimento ma che poi non tengono traccia non solo tengono conto non solo di Inspire ma anche delle interconnessioni con gli altri sistemi informativi esistenti quindi della possibilità di scambiare i dati anche a livello di sistema informativo nazionale e a livello di sistemi informativi in generale grazie grazie domande curiosità domande o curiosità nessuno bene allora io direi adesso di andare avanti mi sembra con la parte tematica